buongiorno ragazzi buongiorno non sono scappato sono sempre qui guardate che bella giornata soleggiata frescolina perfetta proprio vediamo che c'è al mare e com'è il mare è una bella tavoletta il mare oggi che bella giornata di caldo ragazzi spettavo ecco questa che passa spettavo pesce pesce sono le 10 e fa un caldo bestiale oggi veramente caldo si sta da dio comunque pieno di gente ragazzi sto lavorando la sera da dio pieno pieno bene ragazzi qui stiamo sempre a coralego non vi abbandono non vi abbandono state tranquilli va bene vi auguro una buona giornata a tutti a quelle che mi seguono quelle che non vogliono seguirmi non non importa non importa non importa chicos ciao ragazzi saluto da coralego ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi